La stagione balneare ormai alle porte, secondo quanto dichiarato nelle scorse settimane dal presidente del consorzio di depurazione, Giuseppe Marletta, potrebbe essere compromessa a causa del malfunzionamento dell'impianto per la situazione debitoria dei cinque comuni consorziati. Ad interessarsi al problema anche il consigliere comunale di Giarre, Leo Patanè, che nei giorni scorsi aveva chiesto all'onorevole Forzese di sottoporre la delicata questione all'attenzione della regione. Abbiamo sollecitato l'onorevole per presentare appunto questa interrogazione parlamentare perché la situazione con la stagione balneare alle porte è a rischio. Perché da un lato già abbiamo un consorzio, quello che si occupa della depurazione per quanto concerne la parte di Giardini, Alcantara, quella zona vendita ormina, eccetera, che già ha i suoi problemi. Quindi se aggiungiamo a quelli anche i problemi di quest'altro consorzio rischiamo veramente di compromettere la stagione balneare ormai alle porte. Considerato appunto che Marletta ha sottolineato il fatto che i comuni con le loro casse già deficitarie non stanno versando le quote di loro aspettanza al consorzio, di fatto il consorzio si trova in una situazione in cui non riesce a fronteggiare quasi nemmeno la manutenzione ordinaria. Quella straordinaria è completamente ferma, ma neanche quella ordinaria. In più c'è anche la problematica legata che è stata affrontata ampiamente in consiglio comunale, quella per quanto concerne le portate in esubero, l'allacciamento degli scarichi. Tutto questo se ci fossero dei fondi da utilizzare il consorzio potrebbe effettuare dei lavori per l'implementazione della rete per trattare appunto queste portate in esubero, cosa che allo stato attuale non può fare. Quindi ho sollecitato l'onorevole che ha presentato questa settimana un'interrogazione parlamentare rivolta all'assessorato regionale al territorio e ambiente e all'assessorato al turismo, che sono i due assessorati di competenza, al fine di poter avviare un tavolo tecnico sia con il consorzio di depurazione ma anche con i cinque comuni consorziati, i comuni appunto di Giare, Fiumefreddo, Riposto, Mascali, Sant'Alfio, al fine appunto di poter trovare una soluzione, che può essere anche un intervento della regione, ma comunque trovare una soluzione perché si rischia qua di compromettere tutta anche un'economia basata sul turismo e sulla stagione turistica balneare. Però sappiamo che le casse dei comuni, insomma facciamo un discorso generale, non godono di buona salute, quindi riuscire a recuperare questi milioni di euro che i comuni devono dare è un po' un problema. Sì, perché appunto Marletta parla già di una situazione debitoria insostenibile di quasi 2 milioni di euro. Appunto per questo è necessario un tavolo tecnico con la regione e con gli assessorati competenti al fine anche di capire come poter intervenire sia nel breve che nel lungo periodo anche se è necessario con fondi regionali o trovare comunque una soluzione perché è chiaro che non si può compromettere una stagione turistica balneare.